Dopo l'escurso Sinfriuli, Emiliano, Edra, D'Assessore allo Sport, consigliere regionale, facciamo una premessa. Penso che quando hai cominciato a fare politica, perché a te piaceva, ancora con Primo Ravis, non penso che nella tua idea c'è quella di arrivare qui in Piazza Auburn. Insomma, tutti quelli che fanno politica per passione sperano di arrivare a ricoprire cariche facendo il curso Sonorum. Per cui ci speravo, sono tanto contento perché comunque essere arrivato a 35 anni e a questo risultato è una cosa che mi fa tanto piacere per me, ma soprattutto per le persone che mi hanno accordato la loro fiducia con le loro preferenze. Senti, allo sport, visto che tu comunque un po' di specializzazione nello sport ci sei stato, visto che hai ricoperto con Cosolini per circa due anni questo incarico. Come vedi la giunta regionale per quel che riguarda lo sport? Deanna aveva già fatto una riorganizzazione dal punto di vista dei contributi. Come vedi l'idea insieme all'assessore? Perché è ovvio che Trieste avrà un canale privilegiato, visto che tu sei stato ex assessore allo sport. Come intendi di relazionarti con esso? Io sicuramente andrò in Commissione Cultura e Sport, ovviamente per le competenze che ho acquisito. e credo che lo spirito deve essere quello collaborativo. L'esperienza che ho accumulato in questi due anni penso possa essere utile anche all'assessore, per cui naturalmente sono a sua disposizione per qualsiasi tematica.